Secondo il WHO, la depressione è la prima causa di disabilità al mondo. C'è questo valore, il daily, che misura quanto un disturbo pesa sulla vita di una persona che pone la depressione alla cima della lista. Perché alla cima? Perché dico continuo a dire alla cima della lista? In cima alla lista. Quindi di sicuro un problema su cui possiamo fare molte riflessioni. Io ne faccio qualcuna qui, rispetto anche alla terapia breve, e poi magari voi fate le vostre, pubblicano i commenti, opinioni, critiche, insulti, quello che vuoi, e apriamo un po' il dibattito sull'argomento. Prima cosa interessante, 4% della popolazione mondiale soffre di depressione secondo il WHO. Questo vuol dire che è un problema che ci troviamo a affrontare sempre di più. Cioè 4%, 4 persone su 100, e continuano ad essere sempre di più. E a questo si lega il fatto che due problematiche con cui ci dovremmo trovare noi a confrontare, perché si legano molto alla depressione, sono che 1. La compliance con la depressione dà spesso qualche problema e 2. Il drop out con la depressione è molto molto alto. In questo senso, ovviamente, non penso che sia la panacea di tutti i mali, ma la terapia breve può essere molto utile, tanto che dà dei risultati buoni anche con la depressione. Considera che studi che mostrano che la terapia breve, diverse forme di terapie breve, di interventi brevi, possono dare dei buoni risultati, con la depressione sono ormai diversi. Sto pensando in questo momento a uno relativamente recente, dello scorso anno, in cui dei bambini e degli adolescenti con sintomi depressivi venivano istruiti tramite un computer con un programma di 30 minuti a dare delle risposte adeguate per risolvere appunto determinate problematiche. Dopo solo 30 minuti di software riuscivano ad avere degli improvement, dei miglioramenti nei sintomi, sia ansiosi, sia depressivi, anche ai follow-up. Che lo so che molti diranno non è terapia, è soltanto un intervento, 30 minuti non ci puoi fare niente, però è comunque un risultato e secondo me dovremmo farci delle riflessioni sopra. Come ad esempio il fatto che se con degli interventi, non necessariamente computer-based, ma con degli interventi brevi, riusciamo ad avere dei miglioramenti iniziali, la terapia poi può, se deve svolgersi per più sedute, può andare avanti più facilmente, sia per noi che per il nostro cliente. Un'altra cosa che si può fare è seguire poi degli autori di terapia breve che si occupano di depressione. Uno tra tutti viene in mente Michael Iapko, che sono ormai decenni che studia la depressione curandola con terapie brevi di matrice ericksoniana e strategica. In sintesi, secondo me, parlare di terapia breve con depressione è interessante perché ti può dare degli spunti per riuscire ad affrontare quello che sarà sempre di più il male del nuovo secolo, del nuovo millennio e magari avere delle risorse un po' più efficienti. A volte non sarà sufficiente una terapia breve o un intervento di poche sedute, però avremo comunque una base da cui possiamo iniziare. Quello che è sicuro è che la depressione ce la avremo sempre di più di fronte agli occhi e come terapeuti saremo sempre più chiamati a lavorare sia su di essa sia su tutte le implicazioni che questa comporterà. Quindi il consiglio che ti posso dare è specializzati adesso su questo problema e non arrivare per ultimo.